Nella precedente lezione abbiamo parlato degli incubi, ma vediamo ora quali sono le varie tipologie di sogni. Perché i sogni possono essere distinti in varie tipologie. Vediamone le principali. Iniziamo dai sogni più importanti, quelli che sono definiti come grandi sogni. Sono quei sogni talmente potenti che riescono a imprimere alla nostra vita cosciente la necessità di una svolta. Esempi di grandi sogni si possono ritrovare ad esempio nelle antiche scritture. Sono tutti quei sogni dove i profeti in sogno sognavano Dio o Dio gli appariva in sogno per comunicargli ad esempio una missione da compiere. Pensiamo anche al sogno di Costantino, il sogno di In hoc signo vinces, il sogno che gli anticipava la necessità di sposare la religione cristiana per ottenere poi una vittoria contro i propri nemici. Un'altra importante tipologia di sogni riguarda i sogni di conferma o sogni complementari. Sono dei sogni dove ci viene raccontata una storia che in un certo senso conferma l'azione che abbiamo intrapreso nella vita reale. Ad esempio una scelta importante di vita che abbiamo voluto attuare e il sogno ci rafforza e ci dà conferma sulla positività di quella scelta. Abbiamo poi i sogni anticipatori, i sogni premonitori. Sono dei sogni che ci danno una visione di qualche tipo sul futuro e su una certa dinamica che si sta mettendo in moto andando a creare una certa situazione nel futuro. Vi sono poi i sogni archetipici. Vedremo poi nel seguito cosa sono gli archetipi. Diciamo in generale che gli archetipi sono delle energie base della nostra psiche. Sono figure come ad esempio l'archetipo dell'eroe o della grande madre. Sono sogni che quindi parlano di energie archetipiche che si sono messe in moto nel nostro inconscio. Ma ne parleremo diffusamente più avanti. Vi sono poi una serie di sogni che potremo definire minori o sogni di routine. Sono sogni che in realtà contengono un significato di minore importanza rispetto ai grandi sogni. Tuttavia anche nei sogni più apparentemente banali dove viene raccontata una storiella relativamente semplice che riguarda la nostra vita quotidiana si può celare in realtà un importante significato. Abbiamo poi una categoria di sogni che si chiama compensatori, sogni compensatori. Cioè sogni che effettuano una sorta di compensazione rispetto alle scelte che adottiamo nella vita cosciente. A differenza dei sogni di conferma, i sogni compensatori cercano di farci intravedere altre opportunità o altre possibili scelte rispetto a quelle che abbiamo effettuato nella vita cosciente. Come facciamo a capire quale tipologia di sogno abbiamo fatto? Come distinguere ad esempio un grande sogno da un sogno anticipatore? Non è sempre facile in realtà. Possiamo dire in generale che i sogni profetici o anticipatori sono tutto sommato poco frequenti, sono rari, anche se esistono certe persone che fanno regolarmente questo tipo di sogni. Diciamo che questi sognatori, o comunque noi stessi quando facciamo quelle poche volte che può capitare un sogno profetico, riusciamo a sentirlo, che il sogno ci sta dipingendo una sorta di visione del futuro. Riguardo ai grandi sogni, beh, è semplice, è più semplice capirlo, perché nei grandi sogni ci viene data una soluzione, una sorta di nuova opportunità che potremo intraprendere o imprimere nella nostra vita cosciente. Un qualcosa che in un certo senso ci può cambiare la vita, una visione, una nuova strada, una nuova scelta da poter attuare nella nostra vita. I sogni minori, beh, quelli ce ne accorgiamo perché al risveglio solitamente non ci hanno lasciato chissà quale emozione. Diciamo anzi che è proprio questa la spia per capire quanto un sogno possa essere importante o meno importante, grande o piccolo che sia. È proprio l'emozione che proviamo al risveglio. Se ci svegliamo stupefatti, tristi, malinconici, particolarmente turbati o particolarmente estasiati, allora probabilmente abbiamo fatto un sogno grande, cioè un sogno importante. Se invece ci svegliamo tutto sommato con un basso impatto emotivo, allora è un sogno rutinario. E questo ci dice anche, anzi, quali sono i sogni più importanti da interpretare. Perché badate bene, lavorare con i sogni può essere anche impegnativo, può richiedere di dedicare diverso tempo nel corso della giornata all'interpretazione dei sogni. Ecco, in mancanza di tempo, di risorse da investire in questa attività, concentratevi solo su quei sogni che creano un impatto emotivo particolare al vostro risveglio. Parliamo ora di quella che è la più importante funzione dei sogni. Lo abbiamo visto, certi sogni, come i grandi sogni, sono in grado di sconvolgerci la vita, di farci vedere nuove opportunità. In generale, però, la funzione più importante del sogno è quella della compensazione. Che cosa significa? Significa che noi, nella vita cosciente, solitamente tendiamo ad assumere degli atteggiamenti monolaterali, ad essere, ad esempio, troppo identificati con il nostro ego, con il nostro lavoro, con la maschera che indossiamo tutti i giorni nelle nostre relazioni con gli altri, con il nostro partner o con i nostri colleghi di lavoro. Mentre il sogno tende invece a farci vedere l'altra faccia della medaglia, l'altra parte di noi stessi, una parte di noi che giace nell'inconscio perché non ben espressa, non ben integrata con la nostra vita cosciente. In altre parole, tanto più noi siamo unilaterali nella nostra vita, nel nostro modo di pensare, di relazionarci agli altri, tanto più c'è bisogno, da un punto di vista di totalità, di un'altra parte di noi che ci controbilanci rispetto a questa unilateralità. Lo vedremo poi quando parleremo della teoria dei tipi psicologici, però in linea generale facciamo già quest'esempio. Le persone che sono molto razionali e di conseguenza che danno poco spazio alle emozioni e ai sentimenti, hanno bisogno di essere compensati proprio sul piano della vita emozionale e per tale motivo l'inconscio sarà animato da eventi dinamiche che mettono in gioco quelle emozioni, quei sentimenti che noi trascuriamo o tendiamo a non voler vedere nella vita cosciente.